musica ma no questo stronzo di lezzo no in due colpi chi è che è venuto giù con me? guardate il collo vanno dove c'è più gente questi stronti sono la merda tutti dentro in autobus oh cazzo non c'entra niente se tu rimanevi con Matteo veniva meno gente da me io volevo la casa aspettavi che entravo no se no partiva mi lasciavate a piedi arrivo Ricky sì 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 ma adesso siamo un po' nella merda no ho lasciato uno vivo ok qua sono morti qua sono merda merda ma niente mi hanno scioltato quanta cazzo di gente c'è tu metti la difficoltà massima cioè siamo all'undicesima guarda che difficoltà originale e l'ho messa appunto è il massimo ora che non riesco a scendere le scale mi sono incantato le scale della morte eh più o meno i zombie che mi spostano salvalo oh cazzo non ce la fa a salvare non ce la fa non uccidelo non uccidelo oh adesso facciamo tutto oh che culo adesso oh no fatelo seguire fatelo seguire bene ma che culattone di merda cioè veramente hai fatto uscire l'orsetto io ti sparo mi servivo no stronzo fatti seguire dello zombie ecco vai lontano no cazzo mi sono in culato no 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 ripeti lì ma perché ti sei fatto venire il tipo? per questo Ricky vai dentro no cos'è cos'è que? ho un portale vai 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 dove sei arrivato? in mezzo ai campi perfetto vai in vai in come si chiama? a tutto il pezzo no vai nella come si chiama? c'è non so se sto andando dalla qui perfetto non ho mai toccato così stamattina no non ci credo ah non ce l'ho conoscevo l'esistenza di sti portali io non so dove sono arriva arriva nella centrale ho trovato un muro c'è qualcosa che non va se ho trovato un muro chi è che ha ucciso l'ultimo? no non l'ho ucciso io neanche io che sono col trimone dai ok sono arrivato sei arrivato? metti la turbina aspetta dov'era il segno? è lì vai 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 fatta messa aspetta eccola perfetto adesso muoviti devo venire lì? sì lascia la turbina eh? l'ho tirato via la turbina l'ho appena a costruire tutto adesso bom bom ma se sei tu giù bom posso tenermela la turbina in mano? eh sì poi lo stavo via proteggimi proteggimi eh ah 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 voglio eh non posso eh dove sono sti cazzo di pezzi? ho detto breve ma intesa mi hanno spabolato dopo il muro c'è bastardo eh non posso rianimarti no no che l'ha no mi ha bruttato fuori cosa? no 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 sono morto è persa no e così si conclude la storia dei nostri giovani eroi no si è bloccato il gioco no e il non ci credismo di di non ci credo ho fatto tutto sto cazzo di roba e poi stiamo che ne fatti ma connessione di merda però calmati che poi muori il punto che non sono io lost sono io lost appunto fai schifo ma vaffan brodo se Mario sta andando come me Mario cosa Mario sta andando come me stesso ping che sfortuno io ho una connessione ottima tu no e il punto è che dovevamo già costruirlo e niente sto qua adesso muore a fine ecco venita no ha creato un portale no ha creato un portale e boh niente per questo per questa puntata è tutto tutta magari faremo un altro partito un altro giorno su un'altra mappa anche se è stato molto emozionante questo perché è cavolo sono successe molte cose questo dove cazzo è arrivato vabbè per questo video è tutto forse metterò lo farò a due parti perché è abbastanza lungo e spero che il video vi piaccia commentate iscrivetevi alla pagina di Rick the Player e di Bago ciao ciao è morto proprio giusto perfetto boh perfetto oh però ho fatto più punti di quell'altro stronzetto eh boh vabbè mi sento forte vabbè ciao ciao ciao